Ciao amici di CTO Mastermind, saluto a tutti. Oggi ho avuto il piacere di registrare una puntata con Alex, è stata una piacevole chiacchierata sui temi di cui mi occupo in questo momento e da diversi anni in realtà professionalmente, ovvero DevSecOps Platform, quindi piattaforme diciamo volte a consentire lo sviluppo di codice in ambito enterprise veloce, sicuro e quant'altro. È stato piacevole perché per me è importante poter condividere con una comunità di addetti ai lavori, quelle che sono delle idee, delle problematiche, quindi sostanzialmente poi poter arrivare a delle scelte, delle decisioni in modo non da soli, ma in qualche modo anche grazie a una sorta di condivisione diciamo così tra persone competenti che si occupano di questi problemi. Ho conosciuto questa community da poco, in realtà da qualche mese, però devo dire che trovo il taglio così anche rivolto a questo tipo di professionalità interessante, una cosa abbastanza direi unica per quello che riguarda l'Italia probabilmente e credo che possa essere davvero, almeno personalmente l'ho trovata interessante e la seguo volentieri e penso che parteciperò anche in futuro in modo assiguo.